Le elezioni regionali in Sicilia del 5 novembre, convention della lista idea Sicilia, popolari e autonomisti all'hotel Chaos per Nello Musumeci. Ma io credo che Agrigento sia scomparsa dall'agenda politica regionale ormai da tempo, quindi abbiamo il dovere di dare più linfa o ossigeno ai territori maggiormente degradati. Oggi questo impegno qui con Roberto Di Mauro, sostanzialmente con tutte le forze della coalizione perché la gente si convinca che il nostro è un progetto alternativo al malgoverno del centro-sinistra e alla demagogia dei grillini. Dobbiamo lavorare con impegno ovunque trovo entusiasmo e questo non può che farmi piacere. Io sono convinto che questa volta ce la faremo perché vincerà la speranza sulla rassegnazione. Dovessimo fare direttore l'elenco dei problemi della Sicilia non finiremmo neanche stasera. Dico soltanto che non possiamo più creare occupazione senza lavoro, niente più utilizzo di denaro pubblico come ammortizzatore sociale. Dobbiamo mettere al centro di ogni attenzione l'impresa, l'azienda. È l'impresa che crea ricchezza sia per chi vuole fare autoimprenditoria, quindi i giovani, sia per chi vuole andare a lavorare dopo essersi formato. Io credo che questo sia il presupposto essenziale e poi tutto il resto, gli accordi bilaterali, la riqualificazione della burocrazia, il tema della sicurezza, le infrastrutture, le strade impercorribili, che sono una vera e propria vergogna, sono temi che arrivano a ricaduta. Per ora pensiamo a vincere, tutto il resto lo affronteremo di buona lena, con pazienza, giorno dopo giorno. I sondaggi vi danno in avanti ma l'avversario vi tallona. Meno male, così non ci sediamo sugli allori. I sondaggi sono la rappresentazione di un voto negativo nei confronti dell'esperienza precedente. L'esperienza precedente, che è quella del governo Crocetta, è sostenuta dal PD, da Sicilia Futura, dai centristi di Casini, da Alternativa Popolare. Voglio sottolineare questo aspetto perché si pensa soltanto a Crocetta come uomo che ha combinato dei disastri in Sicilia. Anche coloro i quali lo hanno sostenuto hanno fatto quanto ha potuto fare lui. E quindi oggi la gente vuole il cambiamento, si indirizza verso il centrodestra perché ha una ottima candidatura come quella di Nello Musumece. Io penso che questo risultato positivo verrà anche perché la fase della protesta nei confronti dei grillini e quindi di un candidato come Cancelleri si è esaurita. Micari è una persona inventata da Leoluco Orlando. Non ha storia, non ha quindi la possibilità di costruire in futuro una prospettiva. Non ha niente da rappresentare. A Orlando è riuscito un'operazione nei confronti del PD che nella filmografia riuscì a Totò e Peppino, cioè quella di essere riuscito a vendere la Fontana di Trevi. Diciamo che mettiamo assieme conoscenza delle cose, l'esperienza politica, la capacità amministrativa e contiamo su una vittoria significativa. Non basta vincere, dobbiamo portare anche a sostegno del presidente Musumeci i numeri in Parlamento. Quindi noi spieghiamo che ci sia un insieme di liste che possono determinare un numero di parlamentari che consentono a Musumeci di governare con gli alleati naturali che lo hanno accompagnato durante la campagna elettorale. Oggi la sfida politica assume una cifra e una dimensione diversa. Siamo in un momento in cui la Sicilia ha bisogno di aiuto, ha bisogno di sostegno, ha bisogno di idee, ha bisogno di programmi e di progetto. Credo che tutti coloro che abbiano compiuto un percorso che è stato carico di esperienze e di attività sul territorio debbano andare in campo per sostenere questo progetto e per vincere questa sfida. Una sfida che noi intendiamo vincere come gamba civica, popolare e autonomista della coalizione di centrodestra, che intendiamo vincere con Nello Musumeci, partendo dal lavoro che Idea Sicilia ha svolto in questi mesi sul territorio e lo facciamo dalla provincia di Agrigento, dove sono candidato, anche in considerazione delle particolari difficoltà e delle esigenze forti di cambiamento che vengono da questa provincia, così come anche da altre province della Sicilia centrale. Per me è già una grande esperienza che io oggi mi sto accingendo a portare avanti qua con la mia candidatura nell'ambito regionale in Popolare Autonomisti Idea Sicilia. Ciò significa che posso mettere a disposizione il mio pacchetto di esperienza, non in differenza di dieci anni, avendo amministrato una realtà molto importante come la comunità di Canicattì, con un bacino molto ampio di abitanti, avendo dato un contributo anche da rinascita della mia cittadina, avendo speso nell'arco di dieci anni la bellezza di 40 milioni di euro, essendo stato l'unico allora nell'ambito della sistemazione dei precari, avendoli stabilizzati nel lontano 2008. Ciò significa che abbiamo amministrato abbastanza bene la mia comunità, con chi mi ha collaborato, e credo che posso dare un contributo non indifferente nell'ambito regionale, se i cittadini canicattinesi e nonché anche della provincia di Agrigento possono darmi a me questo contributo, questo voto, che posso portare sicuramente una linfa in più nell'ambito regionale.